Adesso con l'arresto di Domenico Bellocco, reggente della cosca di Rosarno, il servizio di Laria Raffaele. Le ricerche nelle campagne di Mongiana, nel Vibonese, anche con la sorveglianza dall'alto di un elicottero, in un casolare alla fine l'irruzione dei militari, scovano così Domenico Bellocco, 44 anni, un cognome pesante il suo che nel regino significa affari milionari legati alla droga e lui, per sfuggire alla giustizia che lo aveva condannato per associazione mafiosa e narcotraffico nel novembre 2019 dopo l'operazione Magma, lo aveva infatti tenuto nascosto nella latitanza. A distanza di un anno, il blitz di carabinieri, finanzieri del Goa e cacciatori di Calabria, coordinati dalla procura di Reggio, che lo trovano con documenti falsi. Questa cattura dimostra la capacità delle forze di polizia di lavorare in sinergia contro le organizzazioni criminali e il commento della ministra dell'interno, Luciana Lamorgese, che a tutte le persone coinvolte rivolge i suoi complimenti, ma il lavoro non è finito. Ora si cerca la rete di fiancheggiatori del boss, a partire da chi gli ha dato i documenti falsi, un giallo, quello della carta d'identità di Bellocco, che potrebbe portare a risultati accanto alla fotografia della titante. Infatti, per i carabinieri su quel documento ci sarebbe un nome che corrisponde a una persona realmente esistente, forse il primo anello per ricostruire i contatti del boss.